Sono 660 i tamponi processati nella giornata di ieri che hanno restituito 61 positivi con l'ultimo bollettino diffuso dall'Asli positivi in Irpinia dal 3 luglio ad oggi sono 5.780 con la seconda ondata il covid ha interessato quasi tutta l'Irpinia sono praticamente 3 su 118 i comuni che sono ancora covid free intanto proprio in merito ai tamponi il comune di Avellino invita gli avellinesi ad allargare lo screening dopo che in dieci giorni sono stati eseguiti meno di 500 test l'amministrazione e l'ordine dei medici di Avellino invitano la cittadinanza a sottoporsi al test rapido che è possibile effettuare a Campo Genova attraverso una locandina resa pubblica nelle ultime ore si ricorda i cittadini che possono accedere allo screening tutti coloro che appartengono alle caricorie protette coloro che vengono indicati dal medico di famiglia e di lavoratori dell'ambito del territorio comunale le prenotazioni possono essere effettuate tramite le mail testerapidi.comuneav chiocciolagmail.com indicando le proprie generalità un recapito telefonico il nominativo del medico di famiglia in seguito alla prenotazione si verrà poi contattati per fissare l'appuntamento non possono sottoporsi al test rapido coloro che si trovano in isolamento in quarantena fiduciaria obbligatoria oppure presentano sintomi da covid grazie a tutti grazie a tutti